Perchè questa mattina? Giornale e televisione parleranno di un impatto molto più importante. Il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle birgate rosse. Perchè chi se ne frega di piccolo siciliano di provincia? Chi se ne fotte di questo urpino impastato? Adesso spegnetelo questa radio. Cerratevi dall'altra parte. Si sa già come va a finire. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso. Quella che non aveva Peppino impastato. Domani ci staranno i funerali. Voi non andateci. Lasciamolo solo. E diciamo una volta per tutti che noi siciliano la mafia la vogliamo. Ma no perché ci fa paura. Perché ci identifica. Perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato altro che un paolo illuso. Un ingenuo, un notto mascolato con niente. Hai studiato? Sai contare? Contare di camminare insieme lo sai fare? Come conta? Conta e cammina. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Ma dove stiamo andando? 98, 99, 100. Lo sai chi ci abita qui no? Peppino. Giudano ci abita. Cento passi da Casarostra. Cento passi. Parla piano Peppino. Vieni nella stessa strada. Prendi il caffè nello stesso padre e alla fine sembrano come te. Salutiamo Zudano. Salutiamo Giovanni. Salutiamo Peppino. Sono loro i padroncini. Mio padre è un luggiero. Ma non è antico. Giovanni è solo mafioso. Uno dei tanti. È il nostro padre. Mio padre. La mia famiglia. Il mio paese. Io voglio fottermene. Voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Le voglio urlare perché mio padre è un letto a culo. Noi ci dobbiamo ribellare di questa gente prima di abituarci. Prima dirò la calcita più di niente. Adelina mamma e perché piangi mo? Ho detto. E ho provato un'altra volta con la scarpa bianca che pareva che di trasire proprio non ne voleva sapere. Allora ho preso un bel respiro. Ho buttato un sorriso a mia figlia. Ma quella seduta sopra la cassa panca continuava ancora a piangere con le lacrime che le segnavano la faccia che parevano affunto anche. Adelina. Ma mamma. Quella è la felicità che ti fa piangere. Non ti preoccupare. E mentre continuava a incermare col piede ho cominciato a sudare perché era una domenica attufata di scirocco che ci stavano più e trenta gradi. Adelina ma lo sai che pure io piangevo quel giorno? Adelina dovevi vedere come piangeva. Che l'è la felicità che ti fa piangere Adelina? Sarà stata pure la felicità però che lo continuava a piangere. Con le lacrime che si ammischiavano a rimmelle e le sportavano di nero tutta la faccia. Adelina basta mamma. La fornisce. Capare una trenta con la faccia nera. E mentre parlavo ho sentito una goccia di sudore che mi scendeva dentro al seno. Che caldo Adelina ho detto. Adelina hai visto che caldo che fa? Lei ha tirato un allucco da bestia. Si è messa le mani nei capelli dentro a quei ricci neri. Che avevo messo più e mezz'ora per sistemare l'icciocca rapugliata. Che ora era tutta fatica sprecata. E mostrevamo punti a capa e in più con la faccia nera che pareva una zingera. Mica la sposa di carni neacciarti. Adelina mamma forniscele che mi fai paura. Che piacera. E allora quella intanto si era alzata e aveva cominciato a camminare scalza per la stanza. Col vestito da sposa che struscicava a terra sopra le mattonelle bianche. Con quei pugni che colpivano l'aria e con quei lamenti che riempivano la stanza. Adelina basta. Spiegati. Che ti vede? Un animale. Quello pareva. Si è buttata a terra e ha cominciato a colpire il pavimento con certi pugni esagerati. Adelina alzati che si sporchi il vestito. Un animale quello pareva. E io mi sono buttata a terra appresta a lei perché la volevo calmare. Io volevo capire. Stavo pure un poco preoccupata perché mancava mezz'ora. Mezz'ora e mezz'ogiorno ci stavano un sacco di cose da fare e che la tarandella io non sapevo come finirla. Hanno bussata la porta. È pronta la sposa? Un momento ho detto. Un quarto d'ore abbiamo fatto. Però non stavo più tanto convinta. Adelina tu muovo fasci pazza a frissa a te. Quella ha tirato una lucca esagerata. Allora io per il nervoso ci ho tirato uno schiaffo. Il miracolo è successo. Si è calmata Adelina. Ha smesso di piangere. Adelina ti senti meglio mamma? Ha fatto segno di sì con la testa. E allora l'ho aiutata ad alzarsi. Adelina proviamo un'altra volta con le scarpe bianche. Quello sicuramente era un numero troppo piccolo. Per quello non trasiva. Ma muoviti che ci riusciamo. Mamma mamma. Io Carmine Acciardi non me lo sposo. Ha detto con la voce tranquilla. Tale quale che aveva detto che il caffè lo preferiva amaro. Mannaggia a te. Era quasi entrata. Ho detto. Facendo finta che non avevo capito. Che non avevo sentito niente. Tanto è inutile. Non me lo sposo. Adelina tu sei asciuta scema. Che la cervella non ti aiuta più. È inutile. Piuttosto mi ammazzo. E non ci sta bisogno Adelina. Tanto quello ti accire lui. Eccide pure a me, a tuo padre e ai fratelli tuoi. Niente. Ferma. Immobile. Pareva la statua della libertà che è asciuta pazza. Adelina. Ma che dove hai nocce? Quello Carmine è la fortuna tua. È ricco. È bello. Quello ti porti in un palmo di mano. È rispettato da tutti Adelina. Da tutti. Adelina ma tu capo. Non lo sposo. E te lo dovevi far uscire prima Adelina. Te lo dovevi far uscire prima Adelina. Te lo dovevi fare per uscire prima Adelina. Io tenevo paura, ha detto Adelina. Tenevi paura. E pensavo che ci stava tempo. E poi... E poi... Io speravo che succedeva qualcosa. Che lo sparavano. Che lo ficcavano dentro una galera. Speravo che se scussavano e veniva di appresso. Adelina è troppo tardi, mi dispiace. E io mi ammazzo. E come niente teneva dentro le mani un paio di forbici. Allora quella ha buttato la testa indietro e si è puntata la forbice contro la gola. Che giornata di merda. Ho pensato. Adelina fermati. Parliamo. Vogliamo parlare con papà? Facciamo venire papà. Se viene papà mi ammazzo prima. E allora non facciamo venire papà. Però lascia quelle forbici Adelina. Non le lascia. E non le lasciare. Però state calma Adelina. Adelina tu mi ha fatto capire. Mi ha fatto capire. Adelina. Muta. Adelina. Adelina. Cambiare non cambia niente. Tanto un morto in più. Uno in meno. Io a carmi in acciardi non me lo spuso. Mamma. Fattene una ragione. Inventati qualcosa. Adelina. Che mi inventano? Che mi inventano? Non lo so. Inventati che sento le voci. Mamma. Non ho perso la parola. Mamma. Ma voglio fare suore. Mo mi faccio suore e finiamo tutto. Adelina. Ma chi sta? Chi è? Ma che fa? Ma come campa? Campa onesto. Questo è sicuro. Ho capito. Ma che fa? Sta imbarcato. Imbarcato. Fa il marinaio. Il marinaio. Ma guarda tu la vita. Queste sono le borse che mi ha ordinato. Sai, c'è una cosa che però non mi convince. Perché tu, se sei un amico mio, tu mi conosci. Sai perfettamente di che cosa mi sto occupando in questo giro. Ma io sono più furbo. Non sono così stupido. Che fai? Mi stai pigliando per il culo. Ho trovato 45.000 dollari nella borsa. Ma chi cazzo di prendere? Che cazzo pensi di prendere in giro? A me? Con tutte queste cose che abbiamo. 50.000 grammi di cocaina abbiamo preso. Hai capito? Guarda in faccia quando ti parlo. Guarda in faccia. Vieni, vieni. Vieni. Guarda qua. Guarda che abbiamo preso. Ehi tu. Vieni qua. Vieni qua. Abbassati. Abbassati. Quando ti guardo negli occhi, abbassati. Ma è anche il picciotto, cioè. Capisciami. Un secolo sono pure lì. Ha capito? Ma che pensi che ho prenduto il culo mio? Hai capito? Vieni, vieni. Picciolino. Che ti faccio il culo faccio. Ho parlato pure napoletano. Visti che ho la faccio alla cinese per la napoletana. Ah, no. Un uomo. Un uomo che quando il cucciolino faceva i passi per me. Ah. Aspetta. Aspetta. Faccio. 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 Eh, io? Eh, sono viatrice. Che, che il futuro predice. Leggo le carte. Quindi so tutto del futuro. Ad esempio al canapione viene stendo a succede di tutti i colori. con i guelfi, i chipellini, i bianchi, i neri. Ehm, il canapione perché io lo chiamo così. Sarebbe la Lighieri. E la mia mamma dice non t'azzardare, l'ho un grande poeta importante. Importante c'ha, c'ha, c'ha il naso. Che c'ha un becco che fa un pappagallo. Perché io non è che lo sopporto proprio tanto. Ci siamo conosciuti, io ci avevo otto anni. Lui nove. Mica mi vuoi di, c'è, che ne so, e te compro un gelatino e giochiamo un pochino insieme. Dieci poesie, da dieci mila versi il piccino. Ci siamo rivisti l'anno scorso, io ci avevo 18 anni. Da lì, sparito. Nebbia. Gli attimi lo dicono. Poi tutti gli aggiungono Ah, ma lui è un grande poeta. Ti dedicherà dei versi. Scriverà il capolavoro della letteratura italiana. Ma, intanto già me ne ha scritto uno diverso. Che fa così. Tanto gentile, tanto onesta pare. Che un letterato capisce subito che pare sta per appare. Ma quelli del borgo di San Jacopo, quando passo, li sento. Guarda, la Beatrice. C'è la Beatrice Portinari. Sai che c'è? Tanto gentile e tanto onesta. Pare. E giù che ridono. Bel servizio. Ma affatto, orcano a pione della Liglietta. E se mi sente parlare così il mio babbo, un convento mi manda subito. Ah, sì, sì. Perché qua, piccibelline mie, se non si va d'accordo col babbo e con la mamma nel Medioevo, mica che si va all'estero in Erasmus. Mica dallo psicanalista. Un convento. Dritti. Però io ho imparato a camminare. Così. Tengo lo sguardo basso. A un certo punto alzo lo sguardo come se avessi visto la Madonna e il Paradiso e le alte rote. E butto l'occhio di sguincio e guardo i ragazzi. E vedo il Battistone, bello, alto, un metro e novanta, che c'ha due spalle. E poi lui gioca al calcio fiorentino, no? E vanno da moda questi pantaloni tutti attillati e ci si vede certe abbondanze dentro. Che io lo so perché qualcuno può simulare, ci si mette in calzino la bottiglia di sidrone, ma il Battistone è tutta roba sua, me l'ha detto un'amica mia. Allora io volevo dire a quel canapione della Liglieri che un mese dichiara, ne porta qui il 7,40, ma sicura che la commedia sta scrivendo, sarà il capolavoro della letteratura italiana. Oppure io uno di questi giorni prendo, mi metto il mantello e scappo. Bo in santa croce dove si allena il Battistone. E io fa, ciao Bellino. Io sono la Beatrice, quella cantata da Dante. Mi hanno detto che fra noi ragazze famose e voi calciatori c'è un certo feeling. E lui, bello, è un po' rozzo, che mi fa, e che cazzo è questo feeling? E io te lo spiego, gli dico, vieni qua, vieni qua. Che te porto sotto il ponte dell'Arno e te lo spiego. E lì per descrivere quello che succede, dicevo a Dante, Allora io stanotte me ne vado e me ne scappo e vado al Battistone in santa croce perché stanotte è una notte bella, avventurosa, io so giovane, so bella e voglio essere libera. E poi l'ha detto lui, no? Tanto gentile e tanto onesta. Pare. Ciao papà. Sai, mi ricordo ormai una vita fa quando ero poco più alto di un metro, pesavo, che ne so, 30 chili ed ero ancora tuo figlio. Quei sabati mattina che andavamo a lavorare insieme, io salivo su quel grande camion verde, quello per me era il camion più grande dell'universo. E mi ricordo quanto era importante il lavoro che facevamo, che se non era per noi, la gente sarebbe morta di freddo. Tu per me eri l'uomo più forte del mondo. Ti ricordi quei filmini quando mamma si vestiva come Juliette Lewis? I gelati, le partite di football, quain, tonno. E il giorno che partii per la California, per poi tornare a casa con l'FBI che mi dava la caccia, e quella gente dell'FBI che dovette mettersi in ginocchio per allacciarmi le scarpe. E tu che ti sesti quello il tuo posto, figlio di puttana, ad allacciare le scarpe a George. Quello sì che fu bello, quello fu geniale. Ma te lo ricordi? E quella volta in banca che mi dicessi che i soldi non sono la realtà. Beh, sì, oggi ho 33 anni, alla fine credo di averlo capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora credo di averlo finalmente capito. Che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Ti voglio bene. Un bacio. Giorgio. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio. Scusa, posso rifarlo? Sì. Un attimo. Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio. Non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. Si è suicidato. Eh, non meravigliatevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, lo dico. Lo dice il magistrato, dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va la ferropia. Comincia a sbattersi la testa sopra un sasso. Comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fascia nel tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vuole giù dalle finestre della questura di Milano. Come l'editore Feltrinelli che si fa saltare in aria sui tralicci dell'Eno. Tutti i suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedete domani in televisione. Anzi, non leggerete proprio niente. Perché domani stampe e televisioni saranno occupate a trattare un altro caso di maggior valore. il ritrovamento dell'onorevole Audomore ucciso come un cane dalle brigate rosse. Fate una bella cosa. Giratevi dall'altra parte. Tanto si sa che queste cose qui si sa come vanno a finire. Voi dalla vostra avete un po' il cosa che Peppino non aveva. E allora diciamolo forte. Che noi la mafia la vogliamo. Perché a noi siciliani la mafia ci piace. La vogliamo. Ci fa sentire sicuri. Noi siamo la mafia. E tu Peppino non sei stato altro che un ingeruo. Tu ti è stato altro che un buon a niente. Tu ti è stato nutto. Mischiato con niente. E adesso giratevi e voltatevi. Domani ci saranno i funerati. Voi non andateci. Lasciatelo solo. Questo è tutto. Quando conosciamo un ragazzo noi vi facciamo credere di essere quel tipo di donne che va letto solo con una goccia di Chanel che ci piace cucinare. Beh in realtà questa cosa non è vera. Col tempo ci lasciamo i peli incolti alle gambe e facciamo scenata di gelosia. Quando una donna dice Amore Amore non c'è problema. Beh lì non c'è il limite alla tragedia. Perché le donne fondamentalmente non dicono mai quello che pensano. Gli uomini al contrario sono il modello base dell'essere umano. Quelli mangiano, dormono, cagano, piscine vogliono trombare. Punto. E ogni tanto c'è di mezzo la formula 1 e il derby a seconda dei loro muschi. Ma un altro argomento molto importante anche a livello socio-psicopedagogico e vorrei rendere più atteccipe è la ceretta. Ci parliamo. Ma avete idea di quanto una donna soffre a togliersi tutti quei peli? Noi ci strappiamo i peli da sotto le ascelle, dalle braccia, dalle gambe, i baffi, le sopracciglie, i peli del naso. Ma quelli che io chiamo la tortura la ceretta inguina. C'è, andare dall'estetista è peggio che andare dal ginecologo. Quella ci stende e ci mette una gamba dietro la schiena, l'altra dalla di gabbiano e ci strappa i peli anche dal buco. Capite? Perché i peli ci crescono anche lì. Ma avete idea di una donna quanto soffre a togliersi tutti i peli in quella zona? Ecco, perché noi donne siamo così tanto stressate. Comunque, il problema è che noi crediamo troppo nel principe azzurro. Mannaggia World Disney! Comunque, l'ultimo segreto? Shhh! Per capire una donna dovete andarci a culo. Ehi, ehi. Sai che cos'è pazzo? Un pazzo? È quello che impone la maggioranza. Già, già, già. Prendi i germi, per esempio. I germi, già. Nel XVIII secolo non esistevano mica. Ah, nada. Niente, 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 niente. Chi l'avrebbe mai partorita un'idea del genere? Certo, non uno sa di mente. Poi, poi, un bel giorno arriva questo dottore. Sam Weiss. Sam Weiss. Sam Weiss. Un bel giorno arriva e cerca di convincere la gente. gli altri medici, soprattutto, che esistono questi piccoli, invisibili cosi chiamati germi che ti entrano nel corpo e che ti fanno ammalare. Li convince? Convince i dottori che è giusto lavarsi le mani. Come lo vedi tu, questo pazzo? Questi piccoli, invisibili cosi? Come li chiami tu? Ah, ah, germi? Ah. Come? Ora, facciamo un salto nel ventesimo secolo, eh? Una settimana prima che mi ficassero in questo buco dell'inferno, ho ordinato un hamburger in un fast food merdoso. Un tizio lì me lo fa cadere. Jim, Jim, ti giuro che me lo raccoglie, me lo spolvera e me lo ridà tutto tranquillo come se niente fosse. E i germi, dico io, lui risponde che i germi non esistono, sono soltanto un'invenzione della gente per vendere disinfettanti e saponi. Come lo vedi tu questo? Lui è pazzo, vero? Giusto? Ah, ah, ah. Non c'è giusto, non c'è sbagliato con soltanto l'opinione della gente. Tu, tu, tu credi nei germi, sì? Certo che sì, tu sei sano, tu puoi scappare da qui allora sei sano, sei sanissimo. Ehi, posso farti uscire io? Posso farti andare via? Già, già, tu ovviamente ti chiederai perché non scappo io. Certo, certo, certo. Intelligente, ottima domanda, ottima. Passa a Pirandello. Pirandello, Pirandello, facciamo... Mi ricordo il titolo, però... Il Beretto o Sonagli? Ah, signora, io... ora parlo, non per me, eh? Parlo... in generale. E che cosa ne può sapere lei, signora? perché uno tante volte lo ruba. Perché uno tante volte ammazza. Perché uno tante volte poniamo brutto, povero, vecchio, per l'amore di una donna che gli tiene il cuore stretto come in una morsa, ma che intanto però non gli fa dire ai, che subito glielo spegne in bocca con un bacio. Per cui questo povero vecchio si strugge e subriaca. Che cosa ne può sapere lei, signora? Con quale doglia è in corpo? Con quale supplizio? Questo vecchio può sottomettersi. Io ho contatti con l'esterno, io, io, io sono... Ah, veramente? Eccoci coi vostri belli esempi. Ecco persone di mondo che prima ci offendono, si atteggiano, ci maltrattano, che ci guardano dall'alto in basso e che poi si dichiarano addirittura entusiasti quando scoprono che siamo cento volte più distinte di loro. Come è ingiusto. Avere avuto il riconoscimento soltanto oro, argento e onore valeva proprio la pena di ostentare tanta arroganza. Dove sareste voi oggi se avessimo ricambiato quei vostri meriti con egual moneta? Rendetevene conto, non sareste stati ben ben ingannati. Adesso si tratta di perdonarvi e per essere capaci di tale bontà dite cosa mai ci servono. Le ricchezze? No, di certo. La nobiltà? Neppure. La condizione sociale? Meno che mai. Voi già possedevate tutto ciò ed eravate forse migliori. Vallevate di più. Allora, cosa ci vuole? Eccoci al tutto. Bisogna avere l'animo generoso, sentimenti virtuosi e tanto buonsenso. Ecco cosa ci vuole. Ed è degno di stima e distingue un uomo che vale di più da un'altra. Udite, signori, la voce degli uomini di condizione del mondo. In questo modo vi si offrono i buoni esempi di cui avete bisogno e che superano le vostre stesse capacità. e da chi vi domandate a delle schifte che voi avete sempre offeso, maltrattato, rimproverato, ricchi di tutto. Come siete? Da che ora hanno compassione di voi, poveri, come sono? Ne fate vanto da soli adesso. Insuparbite? Avrete indulgenza. Voi, che dovreste arrossire di vergogna. Grazie. Grazie. Grazie.